buongiorno ma sto giovanotto tua figlia vedi vedi la gioventù quando viene cresciuto in un certo modo quando è la garbata non è giusto non so perché ha rilambato pure un nonno tuo certo 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 la tradizione che viene tramandata ah stanno facendo perdere e che si vuole fare che si vuole fare quant'anni tieni tu 15 anni altro poco sono giovanotti altri 3 anni facciamo 8 anni c'è una festa ci vengono pure chi ha compleanno rotto e ronone io mi riferisco a ronone giambù giambù ci chill è solamente qui vabbè non c'è ci perché ci è successo qui era buona miss rouge se non ci poteva anche essere ancora o no che sarebbe stamattina a votare un mato sembra stessi i marineri dopo su tutti i marineri ammala ci sono tutti i pensionati dirci che le barca catturava una uscita bacchiella una volta con la paura con la paura si va avanti con la paura allora quando quando un mastico dice che dobbiamo andare con la paura ragione dimmi cosa che era un mastico come no che era un mastico è un mastico e ha intervistato prontano video non hai visto però io però sempre i video però l'aeroporto certo 4 giorni c'era l'aeroporto era sbagliato cominciavo no comunque questa è una situazione che si deve chiarire comunque dice che dovete lavorare con la paura con la paura in italia in italia che è fondato sul lavoro adesso dovete avere paura di lavorare di lavorare capito perché ci muoce a Roma è tutta pesca abusiva delle cante certo ha cominciato soltanto l'Europa la comunità europea ha cominciato è questa buonanza che vuole afferci a giustare ha accattato un po' per la musulare questa buonanza funziona questa buonanza la tecnologia è buona la tecnologia è buona la tecnologia è buona ma io andiamo a prendere un po' per la musulare questa buonanza quant'è il ruolo? 2 kg un metro di ruolo quant'è? un metro di ruolo quant'è l'arizzo c'è? 4 kg un metro di ruolo l'arizzo non è l'arizzo facetemi muovire dai mette l'arizzo mettevi un giaccio cosa hai? ma hai? faccio un pericolo ma hai portato i busti 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 come saranno? in dibuerto? vieni per andare i busti c'è un po' pericolo aspetta non c'è il soldo non c'è il soldo si, non c'è il soldo non c'è il soldo per buono per loro c'è il soldo guarda quanto è bello, ora apri un montaggio, ah un tuo spagnolo come ti fai? guardate quanto è bello questo polipo ecco che ne abbiamo due, bellissimo guarda qua che ci sono i mostri bellissimo, bellissimo che parola per ricerci ogni mattina? non lo faccio, non puro guarda che sei fuori se non puoi andare in mano ti scappi facciate, metti facciate ma che buono te vuoi 5 kg me lo faccio 5 kg 5 kg e allora che piscici è capisci ci sono genetiche solamente proprio a piede dammi beh vuoi salutare a qualcuno ehi vuoi salutare a qualcuno i calabresi puoi salutare che le case un giumo e che ci vuole forza calabria specialmente che mo c'è a santella forza calabria ma curia per la santella c'è un po' a fare no no non è un po' a fare tanta curia che aiuta e ora si mettono in atto ma pulizzo la schiavonella ma date cato buttate ma si mettono tutta quantina uscente che c'è di ciò ha detto ma scusa la spazzatura c'è giuta uscente no non lo so chi sa che non è un po' a fare no non è un disastro come salutare a tutti